E' detenuto nel carcere Aretino di San Benedetto dallo scorso 16 settembre con la pesante accusa di omicidio volontario. Sono ore e giorni difficili per Peter Polverini, il presunto assassino di Catiadello Marino, la 41enne uccisa nella notte tra l'11 e il 12 luglio e poi abbandonata sul greto del torrente Afra a San Sepolcro. E' confuso, molto provato dicono i suoi legali e ancora sotto shock si tratta di una situazione più grande di lui. Il giovane chiede costantemente della sua famiglia, del padre e della compagna del padre. A breve il 24enne di San Giustino Umbro potrà nuovamente incontrare i propri cari che non vede dalla mattina dell'arresto quando i militari di Arezzo e di San Sepolcro lo hanno condotto in carcere. Dopo che si è svolto l'interrogatorio di garanzia durante il quale Peter è rimasto in silenzio davanti al GIP Anna Maria Loprete avvalendosi della facoltà di non rispondere, è arrivato infatti il nulla osta per le visite ed il giovane e i suoi familiari, dopo giorni di separazione, potranno rivedersi. Intanto emergerebbero nuove indiscrezioni riguardo alla notte di sangue, alla notte dell'efferrato delitto. Il giovane si sarebbe disfatto dei vestiti sporchi gettandoli in un cassonetto ad Arezzo dove il 24enne lavorava in una sala scommessa in zona Campo di Marte. Prima di rientrare in casa, Peter invece avrebbe gettato nel tevere il cellulare della donna, ancora ad oggi non ritrovato, e poi si sarebbe disfatto dell'arma del delitto un martello e di un panno sporco di sangue nascondendoli all'interno di un cespuglio vicino alla sua abitazione, dove la mattina dell'arresto li avrebbe fatti ritrovare i carabinieri.